Tu 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 tu, Tu tu, Badà Padàfully Tu 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 tu, Badà súper, Badàfully Tut i tu, Badà ! Dic��id ora c'è il mio attaccante mele fuori beh si è accanto mele fuori ma guarda che roba attaccante mele fuori si è accanto di buonanotte ai maldi a questo momento attaccante mele fuori staccante Eh, tu! Ma ecco la mia fiorta! Ecco la mia fiorita! Ma ecco la mia fiorita! Hmm, no siete, sono paura, eh? Il primo! Seppure non scendere da me la casa su fuori! E' una cosa! E' una cosa! E' una cosa! E' una cosa! E' una cosa,ателиgondissini! ... ... ... Oh, che vero, i malattici lo vengono anche per me daro fuori! Dove li mori? Dove raccogli di ghiaccia? Vengono al fondo dei dei cibi? Ma che te? Dove li metti? Baracani? Ho il suo baracani? Ho la mia attaglia? Ahaha! Devevo! Aaaaahhh!